magic vincitore è re costa ciao ragazzi bentornati sul canale oggi andremo a vedere un po tutto ciò che è successo in questa diciottesima giornata e anche analizzare un po di giocatori che hanno che hanno performato bene mi raccomando di sostenere questo video con un grandissimo like e per chi non fosse già iscritto al canale ragazzi iscrivetevi 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 è importante perché ogni giorno o quasi esce un contenuto a tema fantacalcio vi ricordo ragazzi che da oggi cominceremo con le live su fantascambi e valuteremo anche un po di rose quindi seguitemi sia qui su youtube ma anche sulla piattaforma viola perché continuiamo sempre lì anche le live sempre sullo stesso argomento seguitemi anche su instagram per sapere un po gli orari in cui va del live allora cominciamo cominciamo subito ma prima di partire con napoli juventus la prima partita è stata venerdì vi ricordo di andare a scaricare l'app di one football link in descrizione one football è la migliore app per chi ama calcio e fantacalcio sul calcio veramente trovate di tutto potete impostare la vostra squadra del cuore e quindi vi aggiorna continuamente su quella squadra potete visualizzare news statistiche curiosità highlights delle partite e poi anche al fantacalcio è utilissima perché possiamo metterci la nostra squadra e anche su quello l'app ci aggiorna continuamente sui nostri giocatori quindi mi raccomando link in descrizione andiamo a scaricarla allora partiamo con la partita napoli juventus di venerdì sera allora sicuramente è stata una partita diciamo che nessuno di noi si poteva minimamente immaginare così nel senso che almeno la mia lettura magari sono solo io che sbaglio era una partita che poteva uscire chiusa l'unica cosa forse che ci ho preso è che queste partite che diciamo dovrebbero essere molto complicate no se magari una partita si sblocca subito allora può avere un canovaccio diverso ecco questa era un po la sintesi però onestamente mi aspettavo una partita con pochi gol magari massimo due tre gol in tutta tutta la partita invece il napoli è riuscito a portarla subito dalla dalla sua parte prima con una gran giocata di quara sulla quale scesni si è opposto per quello che ha voluto e poi osimena l'ha ribadita in rete e poi invece sul secondo gol diciamo si sono scambiati il favore osimena serve che vara sul quale forse scesni lì leggermente meglio poteva anche fare non è detto che diciamo sia proprio colpa di scesni però diciamo poteva far meglio la juve alla fine era viva perché ha preso una traversa con di maria poi la porta sul 2 a 1 sempre con con di maria quindi la juve ancora al primo tempo era in partita solo che poi la partita è andata diciamo che la juve ha favorito il napoli ma il napoli è una grande squadra perché hai hai due giocatori che nel complesso già tutto organizzato fanno la differenza onestamente osimena da quando è arrivato in italia è migliorato tanto soprattutto in cattiveria sotto porta se gli arriva mezza palla la butta dentro diciamo che è vero anche gli attaccanti vanno un po' adannate nel senso c'è un osimena se sta bene sai che i suoi gol li fa però quando il tuo anno ne fai più magari di quanto ne faresti in un anno normale ci sono anni in cui sei anche non dico fortunato perché la fortuna alla fine la vai a cercare però è quell'anno che dici ti riesce tutto bene come l'anno scorso il milano l'anno scorso il milano ha vinto giocava bene ma gli riusciva anche tutto e quest'anno io vedo il napoli veramente che che gli riesce tutto però non possiamo ridurre a questo il napoli è una squadra che quest'anno stramerita di vincere questo campionato e non vedo nessuna squadra che possa andare a contrastarlo cioè non vedo un antagonista vera per il napoli perché l'inter cioè quando vince vince di misura e anche quando gioca contro squadra non riesce proprio a imporre il suo gioco il milan veramente deleterio prende due gol da chiunque l'unica era la juve che nelle ultime ha inanellato questa serie di partite vincendo però poi sotto i colpi del napoli è naufragata va bene continuiamo perché altrimenti parlo solamente di napoli juve passiamo a cremonese monza hanno giocato sabato ore 15 una partita molto strana in cui diciamo la cremonese si è ritrovata subito sotto 0 a 1 col gol di giuria su assist del del petagnone 0 a 2 rigore di caprari e lì è stata molto difficile poi andare a a recuperarla addirittura poi al secondo tempo 0 a 3 con la doppietta di caprari sempre assistito dal buon petagna e nel secondo tempo la cremonese è andata vicina anche alla rimonta alla pazzesca rimonta con prima il gol di ciofani del mio amico panterone che saluto ciao carmine e su assist di valeri e poi con il secondo gol di dessars sempre su assist di valeri ecco su valeri quello dicevamo la volta scorsa che alcuni dicono che non ha reso bene no secondo me valeri è troppo poco quel 6 cioè lasciando perdere non lasciando perdere diciamo non solo per i due assist ma c'è stata anche un'altra azione in cui se non grande azione di valeri che salta l'uomo la mette dentro cioè poi non non capisco onestamente cosa debba fare un giocatore di più un difensore peraltro per prendere un voto più alto del 6 non è veramente troppo basso magari non avrà fatto benissimo in fase difensiva anche se diciamo non non gli imputo grandi 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 colpe sui gol però onestamente se è veramente poco e secondo me la cremonese forse se avesse messo prima ciofani con i lanci lunghi forse qualcosa a casa portava alvini è stato esonerato e quando gli hanno chiesto come mai non l'abbia messo prima visto che poteva lanciare lungo dicendo il mio calcio non si basa sui lanci lunghi ok ma la salvezza si basa sui punti se tu i punti non li porti c'è poco da fare e nulla lato monza invece bene carlos augusto 6 e mezzo però poi è stato ammonito 6 e davanti caprari si è sbloccato con il rigore che gliel'ha lasciato e l'hanno lasciato in due forse sia pessina che che petagna perché sono loro tre incaricati a calciare i rigori e bene petagna col doppio assist è ancora in gol ciurria che ha cambiato però posizione in campo perché non ha fatto l'esterno di centro campo ma ha giocato diciamo sotto punta vicino a caprari con pessina che ha fatto il centrocampista l'altra partita quella delle ore 18 è stata lecce milan una partita un po dai due volti in cui il lecce nel primo tempo ha fatto un po quello che ha voluto e poteva poteva finire anche più del 2 a 0 in cui diciamo il lecce la sblocca con l'autogol di teo che a fine primo tempo è stato anche sostituito male per noi che giochiamo all'istone che abbiamo teo hernandez male anche per me e e poi quel grandissimo gol di baschirotto e infatti ieri quando ho fatto il video che ho nominato un po di talenti che abbiamo portato c'era un motivo per cui per cui li nominavo un ragazzo ha scritto ti sei dimenticato di dire baschirotto che è un altro nome di quelli magari che sono passati sotto traccia anzi magari non l'ha preso quasi nessuno infatti tantissime leghe svincolato e lui ha portato due gol ma non solo i gol ci sta portando dei voti straordinari e questo è un altro bel colpo perché per chi l'ha preso sia con mod ma direi anche senza perché già due gol non sono pochi soprattutto quest'anno che i difensori soprattutto quelli forti stanno facendo una fatica in mane questo era un bel colpo veramente nel secondo tempo il Milan la sblocca un po stranamente direi perché ci sono ci sono diversi tiri in porta finché non arriva Leao e Falcone non riesce a coprire bene il suo palo e il Milan si porta sul 1 a 2 il gol di Leao e poi la riporta sul 2 a 2 con un cross al 100 se non erro di po' bega Giroud di testa appoggia per Calabria che la butta dentro su Calabria mi sono espresso tante volte lui purtroppo soffre di infortuni però i suoi colletti li fa Calabria non aveva fatto un'ottima partita anzi però con quel gol si è si è un po' riscattato bene passiamo alla partita della sera Inter Verona Inter Verona è una partita anche questa un po' difficile da commentare perché l'Inter dopo due minuti la sblocca con Lautaro pochissimi minuti si parte subito 1 a 0 Inter io avevo visto tutti questi risultati over vi dico anche avevo scommesso qualcosina sull'1 più over quando ho visto il gol ti ho bene già si è sbloccata la partita e invece poi il nulla nel senso che l'Inter ha avuto qualche palla goal ne ricordo una con Mkhitaryan il gol di Lautaro annullato nel secondo tempo qualche azione l'Inter l'ha fatta però non è è stata magari come gli altri anni l'Inter che fa tanti gol che ha tante occasioni anche l'Inter su me deve migliorare tanto lato diciamo lato Verona diciamo ha fatto un po' la sua partita cioè ha cercato di fare una partita di come dire dura una partita per cercare di portare il risultato fino al secondo tempo per poi cercare di pareggiarla alla fine un 1 a 0 che non porta punti però secondo me la prestazione del Verona quantomeno non è stata non è stata pessima diciamo così anche se Doig non ha preso un grandissimo voto in alcune azioni nuovamente lo vedo veramente devastante sto ragazzo passiamo poi a Sassuolo Lazio ma i like dagli e coi like ragazzi sostratemi con like iscrizione al canale mi raccomando vi aspetto pomeriggio per la live sui fantascambi e valutazioni rose allora vi dicevo Sassuolo Lazio è una partita che mi ha fatto veramente penare come vi dicevo ieri anzi vi lascio il link qui sopra se volete vedere il mio sfogo di ieri in cui purtroppo abbiamo registrato l'infortunio di Ciro Immobile e la partita è stata anche un po' condizionata da questo da questo infortunio però la Lazio diciamo che dal canto suo ha fatto la sua partita ha sbloccato la gara nei minuti finali del primo tempo con un rigore di Zaccagni perché sul colpo di testa di Milinkovic era gollo ragazzi quello entrava e invece Toljan se non erro ha deciso di alzare il braccio e far segnare Zaccagni piuttosto che Milinkovic Savic e nulla poi la partita continua il Sassuolo ne ha avute opportunità forse i due giocatori come dire che ci hanno provato di più ecco nel Sassuolo sono stati l'Auriente che a sinistra soprattutto forse nel primo tempo cercava di far qualcosa e Frattesi è andato più volte al tiro però la palla non è entrata e poi alla fine la Lazio la porta a casa con il gol di Felipe Anderson in cui lì Milinkovic al quale danno l'assist diciamo fa una sponda aerea in cui si avventa Felipe Anderson con con il difensore che diciamo si è addormentato perché si è fatto anticipare Felipe Anderson salta anche consigli al 93esimo più o meno va a chiudere il match poi passiamo alla partita delle ore anzi alle due partite delle ore 15 andiamo con Torino Spezia prima Torino Spezia è una partita in cui il Toro non dico non è sceso in campo però era scarico veramente il Toro non mi è piaciuto un primo tempo sotto tono ma anche il secondo era partito bene ma poi si è si è perso assolutamente hanno fatto male anche sulle fasce in cui Singo non riusciva a sfondare anche anche Voivoda quindi hanno faticato tanto forse l'unico che un po' si è salvato Vlasic e qualcosa cercava di fare anche una buona parata di Drongoschi però il Toro poca cosa dal canto suo invece lo Spezia ha fatto una gran bella partita la sua partita che la partita che doveva fare è passata in vantaggio con il rigore eh di Inzola e e anche diciamo legittimato questa vittoria con la prima occasione di Olmo prima ancora del rigore in cui Milinkovic si trova la palla sotto al culo in un modo anche un po' fortunoso eh un altro tiro di Olmo eh lo Spezia alla traversa di Giasi ne ha avute eh ne ha avute diverse di eh di occasioni per eh anche per arrotondare il il punteggio eh si è visto anche l'esordio di Zurkowski che eh è un bel nome sicuramente per le aste di riparazione eh nulla da dire lo Spezia ha meritato anche Yuri ce l'ha detto eh che lo Spezia ha meritato la la vittoria poi passiamo a Udinese Bologna una partita ragazzi ma i like i like non vedo i like dove stanno i like mi raccomando dagli dagli che cercherò di fare anche veloce allora eh Udinese Bologna sicuramente una partita eh che l'Udinese aveva approcciato bene eh la passa in vantaggio eh col gol di Beto su assist di success eh Beto aveva anche raddoppiato su assist di Becao eh che poi viene annullato giustamente per eh per fuorigioco e e nulla poi a un certo punto il Bologna eh ha iniziato a a premere eh soprattutto con Sansone perché eh prima si era quasi procurato un rigore poi aveva fatto un gol gli è stato annullato e poi alla fine eh fa un gol veramente bello bello per veramente per noi amanti del calcio non solo per il fantacalcio perché magari Sansone non so in quanti lea lo hanno eh però Sansone è un giocatore di quello che eh se gli dai spazio al sassuolo ci ha fatto vedere che eh è un giocatore importante anche per questo per questo Bologna sta giocando per l'assenza di Marco Arnautovic eh e poi il Bologna riesce addirittura a portarlo a casa eh con un gol quasi eh alla Olli e Benji perché ci arrivano sia Posh ehm sia Posh che eh chi era che arrivava? Ferguson mi pare se non sbaglio mi pare che Ferguson era sulla palla e invece ci arriva Posh un attimo prima a colpire di testa e a portare il più tre per i suoi pantalonatori un altro giocatore eh non so nelle vostre leghe ma in tante mie leghe Posh è libero è un altro bel colpo che può arrivare eh in questa asta di riparazione perché io ancora ragazzi non ne ho parlato in un video eh perché più che altro possiamo parlare di cosa? dei giocatori che ci sono liberi ecco quello si potrebbe fare un'analisi anche se voglio dire bene o male si può guardare quindi ehm diciamo che farò un'analisi forse un po' più in là ehm e nulla poi andiamo alla partita delle ore 18 Atalanta Salernitana non è finita con un risultato tennistico ma quasi diciamo che questa giornata è stata tutta un po' stramba cioè ehm la Juve prende sette gol in dici a sette partite poi ne becca cinque in una sola partita è vero che era il Napoli ma comunque sono cinque gol cioè eh ha preso quasi gli stessi gol in una partita che eh che quelli presi in dici a sette e anche l'Atalanta l'Atalanta ne aveva fatti se non sbaglio undici in casa e con l'Atalanta ne fa otto cioè ne ha fatto undici in otto partite e poi ne fa otto in una sola partita è una partita che diciamo non è neanche facile commentare perché è stata quasi a senso unico in cui l'Atalanta ehm la sblocca su su rigore procurato da Oilund che ehm è un giocatore ragazzi veramente mh veramente impattante cioè in una partita ha procurato eh due rigori eh sia quello di Luckman che quello di Coppemainers eh ha assegnato ehm ha segnato ehm ha segnato eh il gol del cinque a uno se non erro eh questo è un attaccante devastante infatti nelle live mi chiedevate o Zapata e Oilund chi metto? eh la mia risposta era sempre se devi mettere uno metti Oilund se devi mettere tutte e due allora se puoi metterle tutte e due allora eh va bene magari ne panchi un altro se magari le alternative non mi convincevano ehm secondo me qui la riflessione da fare ora è che il titolare è Oilund e l'Ukman e dietro gioca Bogat perché non dimentichiamoci ehm che ehm che Bogat è un gioco anzi no ho sbagliato prima ho detto l'1 a 0 invece eh la partita si sblocca con il gol di Bogat eh errore errore mio eh la sblocca Bogat con anche un po' fortunoso però fa un'azione in cui supera tre avversari calcia il porta il tiro eh leggermente deviato anzi direi un bel po' deviato che beffo ciova poi pareggia di A e poi come vi dicevi i rigori è stata eh ci sono stati i rigori c'è stato il colpo di testa di Scalvini che ha fatto il 3 a 1 poi l'altro rigore il gol di Oilund veramente fino ad arrivare ai gol di Ederson Zortea eh eh è stata una partita per la Salernitana veramente che che ha visto anche poi l'esonero di eh di Nicola io eh quando ho visto che subiva tutti quei gol ne ero certo che eh venisse esonerato è vero che lui ha salvato in una situazione drammatica eh l'anno scorso la Salernitana però eh già si vociferava di un esonero e quindi dopo quegli otto questo gol viene viene un po' eh scontata pensare scontato pensare che venisse esonerato certo bisognerà bisognerebbe vedere ora chi va a prendere la Salernitana perché c'erano alcuni nomi che se devo andare a prendere quell'allenatore là io mi tengo Nicola ecco ehm l'ultima cosa che vado ad aggiungere poi continuiamo all'Atalanta è riuscito un po' tutto cioè quando tu poi sei in quella giornata sì come era l'Atalanta eh guardate il gol di Zortea quanto è bello guardate il gol di Ederson eh quella è un po' la partita che dici qualsiasi cosa faccio mi riesce ecco e quindi l'Atalanta la porta a casa eh con un risultato veramente importante la definirei passiamo poi a Roma Fiorentina in cui eh qui diciamo che la Roma è di bala dipendente eh di bala è un giocatore che sta mh trascinando la Roma con le sue giocate è un giocatore eh di cui la Roma non può farne a meno perché se vogliamo la Roma non ha un gioco né bello eh ma neanche come dire mh efficace ecco efficace cioè la Roma è la squadra che magari eh cerca di non subire gol e di farne uno però con di bala gli riesce di fare gol perché di bala eh cuce gioco vede gioco fa gol e e anche in un momento in cui bene o male in un momento in questa sezione gli gira tutto bene eh guardiamo anche il primo gol no? eh lui fa un gran tiro perché si coordina alla grande però magari eh è stato anche un po' fortunato perché c'è stata la deviazione eh Terraciano non è stato eh non è stato forse bravo a respingerla nel senso un minimo forse di colpa però se la prende fa una gran parata e sicuramente di bala eh nuovamente sugli scudi ma ci metto anche Tammy Ebram sicuramente in ripresa due assist per i due gol di di bala eh poteva far meglio forse in qualche occasione per fare con lui però onestamente non gli si può rimproverare nulla eh perché rispetto alle prestazioni da cinque che faceva eh qualche tempo fa ora si vede che ora si vede che Ebram è bello vivo eh ed è diciamo al centro delle azioni anche della eh della Roma lato Fiorentina eh c'è poco poco da dire eh Dodò è veramente un giocatore eh che sta facendo malissimo cioè tu già ammonito non puoi entrare in quel modo cioè veramente non non si spiega è normale che là se non prendi palla stai fuori ti buttano fuori quindi la Fiorentina è stata molto penalizzata da questa eh diciamo da questa circostanza eh nulla poi non è stata neanche tanto pericoloso ovviamente giochi contro la Roma in dieci è veramente complicato vi ricordo i like mi raccomando i like e l'iscrizione al canale l'ultima partita eh ieri sera Empoli eh Sampdori allora io vi dico vi dico la mia mh secondo me forse il risultato corretto era un pareggio perché la Samp eh è riuscita ad avere un sacco di occasioni io ve l'avevo detto già dopo Sassuolo Sampdoria non è solo che la Samp aveva vinto contro il Sassuolo ma come con tanta voglia di lottare su tutti i palloni e ieri anche la Sampdoria c'è stata in campo ha lottato eh aveva anche raggiunto il pareggio all'ultimo la Samp ha fatto una prestazione la squadra che vuole lottare per salvarsi eh speriamo non sia troppo tardi perché eh un po' di ritardo in classifica c'è però eh se arrivano le prestazioni e comincia a anellare magari un paio di risultati utili la lotta per non retrocedere si potrebbe si potrebbe riaprire anche perché c'è ancora tutto un giorno di torno e anche una partita eh lato Empoli l'Empoli ha fatto anche lui bene ehm certo vedere vedere tipo guardavo i voti su fantacalcio.it eh veramente sono tutti i bassi eh quelli della Samp e secondo me non c'è stata tutta sta differenza in campo tra Empoli eh e Sampdoria ecco eh l'Empoli hanno preso tutti dei dei buoni voti eh Vicario ha preso giustamente il 6 e mezzo prima stavo sul 5 e mezzo quando ha fatto quell'erroraccio eh su quel passaggio ma poi si è preso la scena comparate comparate importanti eh forse nell'Empoli mi aspettavo eh diciamo un qualcosa di più da Baldanzi che eh diciamo era un giocatore e questa settimana poteva poteva segnare Ciccio Caputo non ha segnato però secondo me ha fatto anche meglio di Baldanzi perché eh ha lavorato tanto per la squadra eh devo dire che è vero che da ex non ha segnato però la partita di Ciccio secondo me è stata positiva ugualmente eh bene anche Buei con quel bel colpo di testa su corner ecco un giocatore che magari uno non non si aspetta eh dietro poi hanno fatto tutti bene perché eh hanno preso anche dei voti eh dei voti tutti positivi eh l'Empoli diciamo che soprattutto nella seconda parte eh si è basato più a non prenderle che eh che a fare il due a zero e alla fine la partita l'ha portata a casa l'Empoli eh all'ultimo secondo c'era stato quel gol eh della Samp eh che è stato che è stato annullato per eh diciamo un tocco un tocco di mano bene ragazzi se il video vi è piaciuto un grandissimo like iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale ci vediamo così pomeriggio per analizzare un po' le vostre rose e i vostri scambi al fantacalcio mi raccomando seguitemi anche su Instagram e sulla piattaforma Viola perché su Instagram eh vi metto prima eh la storia e il post in cui vi dico l'orario eh e su Twitch continuiamo la live eh dopo che la cominciamo qua su YouTube con questo è veramente tutto ciao ragazzi ciao 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 ciao